Passo subito e immediatamente la parola al Presidente Battini, siamo qui quindi convocati per un importante annuncio e quindi lascio la parola direttamente al Presidente. Io vorrei, gradirei, anche io sono un ospite, ma gradirei che fosse l'amministratore delegato dal dottoressa Gianni della SAT, al quale ha contribuito a questa assemblea e a questa conferenza stampa. Io vorrei dare la parola, se me lo permettete, alla padrona di casa e dopo anch'io dirò le mie cose che veramente saranno sentite, saranno piene di significato perché è la prima volta che la SAT fa una sponsorizzazione in sei anni alla CIP di Saline della Vicenza. Grazie. Bene, io ringrazio il Presidente, saluto tutti voi, per chi ci conosce alcuni giornalisti sono una presenza costante qui con noi, è una sala dove abbiamo lanciato tanti voli e spero che questa sia la sala dove si lancia questo PISA che io non sono una esperta di calcio ma mi si dice, mi si parla di investimenti e come amministratore delegato quando un imprenditore investe guarda il futuro e ha coraggio mi fa proprio piacere essere accanto. E quindi sapete che è stato avuto un cambio nel socio controllante ma è stato proprio ricevendo la volontà di comunicare alla città che questo nuovo socio di controllo è con PISA, è per la città di PISA, è insieme a PISA e quindi questa collaborazione. L'aeroporto è sempre stato vicino a PISA, la città ha collaborato in tanti modi prima di tutto facendo bene l'aeroporto. Se oggi possiamo affrontare una sponsorizzazione ambiziosa per noi è anche perché la società sta andando bene, stiamo facendo un'ottima stagione, vedete l'aeroporto è pieno di gente e quindi ognuno prima di tutto deve fare bene il proprio lavoro, l'aeroporto da aeroporto, una squadra di calcio da squadra di calcio, però è anche un simbolo importante per parlare che l'aeroporto tutt'oggi è con PISA, in PISA, anzi è una delle poche certezze che l'aeroporto di PISA è a PISA, potranno cambiare tante cose ma l'aeroporto ci sarà. Quindi di qui questo accordo che abbiamo preso con il presidente della squadra di PISA, PISA 1909 che è una volontà di starvi accanto per questi progetti ambiziosi che avete e anche una volontà di testimoniare alla città la vicinanza di SAT come sempre. Grazie. Io sarò un po' più ampio in quello che sono quest'accordo, quest'accordo è stato dettato dalla volontà appunto di chi lavora all'interno dell'aeroporto che ha avuto la possibilità di sottocorre all'attenzione dei nuovi soci e entrati quindi come dirigenti, direttori e quindi anche la nuova proprietà cioè coloro che sono di maggioranza hanno recepito che per il PISA, per PISA, cioè per il PISA 1909 sarebbe stata l'occasione giusta di intervenire facendoci uno sponsor e quindi per noi è il secondo sponso per importanza. Dopo è un fiore all'occhiello sapere da avere con noi la SAT. Abbiamo, io sono intervenuto un po' all'ultimo perché i giochi li aveva già fatto in un altro valgagno insieme al nostro ufficio marketing e quindi ora io non voglio escludere nessuno della nuova società SAT e SPA ma la dottoressa Gianni ci ha dato una mano naturalmente e quindi anche l'ingegnere che non è presente, Roberto Nardi, Nardi, ecco perché da noi ci sono Nardi e invece lui si chiama Nardi. Con la Livorno. Con la Livorno. Io quando iniziai sei anni fa, fra le varie etichette che avevo fatto, avevo fatto un aereo a tempo di Francesco Baracca, un pilota con un semplice casco di pelle e dietro una scritta. Il Pisa riparte, il Pisa ha ripreso il volo e io per dire la verità avevo sempre fatto conto anche di un aiuto da parte, perché era significativo, appunto di un aiuto da parte della SAT. Questo aiuto ci è venuto e posso dire che anche la spirale in cui feci come logo del Pisa è proprio una spirale a mo' di torre pendente ma anche qui dice Pisa deve volare, saper volare. E' quello che la SAT in questi anni sta facendo, fa bene e io gli auguro insieme a noi, loro già volano parecchio, ma che insieme a noi, noi insieme a loro si possa volare. e non sarà nemmeno, non sarà facile perché non è facile niente nello sport, ma noi abbiamo fatto in maniera tale che quest'anno la Cipisa 1909 fosse riemergere come una volta era a nuovi lidi perché abbiamo un mister che non c'è, abbiamo qui il direttore generale vitale che sta facendo cose grece, abbiamo in rappresentanza tre atleti che io ho detto un po' vengo sempre più piccolo, un po' vedo crescere la mia riporta, la mia riporta e dopo di fronte a questi Marcantoni ha detto non siete ancora più piccoli ma perché questi si è andato a fare in campo come hanno già dimostrato in queste due partitelle a Lichetta. Quindi noi siamo vicini alla SAT perché la SAT è un bene diffuso come soci, però risponde e è un po' un biglietto da visita per Pisa, continua sempre a migliorare la SAT, cosa che invece da qualche altra parte questo non succede, ma capita. Io credo che con questa nuova amministrazione e senz'altro la SAT possa volare non con un apparecchio come dicevo prima, baracca, ma con i migliori esemplari di aeree in modo che anche Pisa possa avere delle piste più grandi e sono più lunghe in modo da avere voli anche intercontinentali. Mi sta dicendo, ah no, dicevo in corso, pensavo che dicessimo in corso la fattibilità, ma insomma presto sarà, no stava parlando, pensavo dicessimo. Quindi io quello che voglio dire Pisa, questa società ha dato proprio un input anche a tutta la città. È il momento di stare uniti, è un momento anche se difficile economicamente, ma vista la passione che non è stata mai tradita in questi anni, perché non è che il brutto sia venuto quest'anno, è venuto anche all'indietro, ci possano dare una mano con almeno 5.000 abbonati che darebbero anche stimolo non solo a noi come dirigenti, ma anche ai giocatori, perché vuol dire che il direttore ha fatto bene, c'è un allenatore che è stato un ritorno che è stato quasi richiesto a mille per mille e con dei giocatori che hanno la loro in campo per farci divertire e per farci sognare. Io auguro le cose migliori alla SAT e che sia preludio di tutto il bene che si possa avere, sia la società che la Pisa che la GP sa bene nel 2009. Io ringrazio di nuovo tutti coloro che dirigano, i nomi l'ho già fatti, che dirigano la SAT e quindi mai ora per tutti. Grazie. Grazie Presidente, siamo due società che hanno il coraggio e la passione di guardare lontano e di investire, questo ci accomuna oltre che questo accordo che firmiamo ora davanti a voi. Però prima, mentre noi firmiamo, vorrei dare la parola a Leonardo Vargana che è il nostro direttore acquisti e terminal management che per la sua particolare competenza ha curato questo accordo e quindi Leonardo, prego, cosa di fatto, come si vedrà la SAT? È un accordo molto semplice, ecco, come per tutti gli stati. Praticamente vendremo la SAT presente all'Arena Garibaldi e Romeo Anconetani su diversi punti, dalle panchine ai led, agli striscioni dietro le porte, un'idea dietro al bus che vi accompagnerà nelle trasferte e praticamente anche attraverso la stampa e attraverso documentazione cartacea che viene presentata al pubblico alla domenica. Questo permetterà di accompagnare la squadra per un biennio, la società del Pisa 1909 e di far conoscere alla città le iniziative dell'aeroporto della SAT per tutto ciò che intraprenderà in questo percorso. Come vi ho detto è molto semplice praticamente, quindi noi pensiamo con questo di essere vicini e di accompagnarli in un percorso per entrambi di successo. Grazie. Applausi Perché generalmente gli sponsor più di un anno non fanno e quindi sta a significare la credibilità che abbiamo trasmesso e la certezza che abbiamo trasmesso a questa grande società che è la SAT. Regine, questo è un luogo che pubblicheremo sui 100 metri di lettere. Eh, sì, vabbè, ma il luogo di SAT. No, c'è anche una parte interessante di poter essere presente allo stadio con un nostro desk e quindi raccontare un po' anche nuovi voli, nuovi sviluppi dell'aeroporto, nuovi prodotti eccetera al pubblico che va allo stadio e questo è una cosa nuova che non abbiamo mai fatto ma che potremmo anche fare. che possa dare appunto preludio a Mordianco. Lo dico sempre, le cose vanno fatte perché... Noi lunedì sera ci siamo visti, appunto ci siamo, abbiamo concordato...